Prendersi cura, un'esperienza d'amore e speranza che dura da 40 anni, questo è il titolo del convegno tenuto sia a Todi sabato scorso e organizzato dalla Centro Speranza di Fratta Todina, un evento molto partecipato andato in scena all'interno della Santuario dell'Amore Misericordioso di Colle Valenza, location ideale per trattare diversi temi legati alla sfera scientifica, quella religiosa e quella filosofica. Qui al Santuario di Colle Valenza abbiamo affrontato una giornata di studio e di riflessione sul tema del prendersi cura che si inserisce nel ciclo di eventi che sono dedicati alla celebrazione dei 40 anni dalla Fondazione del Centro Speranza. Diversi relatori si sono concentrati sul ruolo della spiritualità nell'atto di prendersi cura dell'altro, rispetto invece alla componente filosofica, in tanti hanno invitato i presenti a considerare la cura come un valore universale radicato nell'etica e nella dignità della persona. Abbiamo cercato di affrontare tutti quegli aspetti diversi del prendersi cura che non sono solo quindi l'aspetto riabilitativo ma anche il tema dell'inclusione, il tema della necessità comunque di collaborare tutti insieme a tutti i livelli perché solamente facendo rete e mettendoci insieme possiamo poi veramente fornire una cura migliore, un trattamento migliore, una qualità di vita migliore a tutte le persone con disabilità e alle loro famiglie. Alla termine della lunga giornata il contributo pratico delle famiglie e dei rappresentanti di realtà simile al Centro Speranza, ad esempio l'Istituto Serafico di Assisi e la Comunità Capodarco di Perugia, strutture attive da tempo e ancora oggi dei veri e propri punti di riferimento per chi risiede nel territorio umbro.